Galan patteggia e torna a casa. Probabilmente passerà la nottata nella sua villa di Cinto Euganeo. La procura di Venezia ha concesso gli arresti domiciliari all'ex governatore del Veneto. Il procuratore capo Luigi Del Pino ha inoltre accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali di Galan, coinvolto nello scandalo delle tangenti per il Mose. La sanzione complessiva, si legge in una nota congiunta di Del Pino e del procuratore aggiunto Carlo Nordio, risponde ai criteri di ragionevolezza ed economia processuale che hanno ispirato il legislatore a introdurre l'istituto del patteggiamento. Per la procura la pena è dunque congrua. Ora l'ultima parola aspetta il GIP che dovrà esprimersi sull'accordo trovato dalle parti. La scelta fatta dal collegio difensivo permetterà a Galan di lasciare il carcere di opera dove è rinchiuso da luglio scorso. Ora a restare in cella c'è solo l'assessore Renato Chisso che però spera nelle decisioni del GIP Roberta Marchiori che all'inizio della prossima settimana deciderà sulla sua scarcerazione per motivi di salute.